2 rimbalzi, 1, 2, 1, 2 e vai! Vieni, 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 vieni! Prima o dopo? Parti da partito prima! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni! Non puoi, mi fisco io! Approciato! E' a Dio! Destra e sinistra, uscita, 3 passi! 3 passi, diamo un finistra! Tan 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 tan, coro camille, diamo un tan tan tan, buono! Mi devo portare, mi devo seguire da lontano! Assoluto! Non mi sapevo! Impressione! Questa! Avro! E! Più in termini, Marti! Per lui! Sì! Pronto! Sì! Vai! Quello che vai! Puffa, vieni! Vai, Aron! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Chiudi il caio! Sì! Vieni, vieni! Ehi! Bravo, Adri! ed è molto più laser! Vedete un po' più lato! Andiamoci ripensati a capire due! A continuare è giusto per la minozua è apparente a otto, guardo! Uno, due! A lungcatelo! Ok, dai! Carboni damme, damme, farlo di cominciare! Amato! Che gotissimo! ara, bravi, c'è! Sì, sì. Senza pallo. Fuori Mattia. Diego guarda su intorno. Guarda su intorno. Guarda su intorno. Grazie. Grazie.